Crocetta rappresenta la più scarsa rappresentanza istituzionale che la Sicilia abbia mai espresso da quando i siciliani sono stati chiamati a votare direttamente il Presidente della Regione senza l'intermediazione dei partiti. Il bilancio consuntivo che Crocetta oggi presenta dinanzi ai siciliani dopo 15 mesi dall'inizio di quell'esperienza governativa, il 28 ottobre 2012, è assolutamente fallimentare. Una rivoluzione annunciata, mai attuata, esclusivamente enunciazioni di principio a cui non sono mai seguiti fatti amministrativi o legislativi. Il nuovo governo che è stato presentato, che ha fatto implodere le contraddizioni all'interno di questa maggioranza rappresenta altresì una tappa verso un percorso assolutamente fallimentare. Noi ovviamente svolgeremo la nostra funzione da opposizione dura e intransigente ma certamente propositiva quando è il caso di esserlo nell'interesse esclusivo del nostro territorio. Mi auguro da siciliano, prima che da esponente politico, che si possa invertire la rotta ma i primi segnali non sono certamente incoraggianti in tal senso. Io credo che queste elezioni europee in Sicilia abbiano anche questa ulteriore valenza ovvero devono rappresentare un referendum all'interno del quale i siciliani saranno chiamati ad esprimere il proprio assenso e il proprio dissenso nei confronti di quello che io ritengo sia il peggiore governo che la Sicilia aveva mai espresso. È paradossale che la Siracusa-Gelo non sia ancora completata, che la Grigento-Palermo, la Grigento-Caltanissetta, la Nord-Sud non siano ancora completate e bisogna quindi soprattutto investire in questo senso facendo anche tesoro dell'errore del passato. Nella programmazione 2000-2006 non sono state perse risorse, ma probabilmente c'è stata un'eccessiva parcellizzazione delle risorse, sono stati 40.000 gli interventi finanziati in quel programma operativo regionale. Tutto ciò ha determinato una contribuzione a pioggia che non ha fatto certamente aumentare il PIL, cosa che è puntualmente accaduta in Irlanda e in Spagna grazie ai fondi strutturali. Nella programmazione ancora in corso, 2007-2013, che deve essere completata nel 2015, abbiamo fatto l'errore opposto, ovvero quello di perdere centinaia di milioni di euro attraverso il meccanismo del disimpegno automatico, grazie soprattutto all'istabilità politica che si è registrato nel precedente governo e ad una mancata accelerazione che si è registrata in questi primi 15 mesi il nuovo governo crocetta. Ecco perché credo che bisogna totalmente invertire la rotta e anche in tal senso credo che una presenza importante all'interno del Parlamento europeo possa determinare questa inversione di rotta. C'è l'assoluta necessità oggi più di ieri all'interno di un contesto in cui l'Europa è sempre più invasiva nelle dinamiche nazionali e regionali di far sentire alta la voce della Sicilia per tutelare gli interessi della nostra terra e della nostra nazione. Basti pensare a quello che è accaduto sul tema della tutela dei prodotti di alto livello qualitativo in campo agricolo dove l'Europa per troppi anni ha ratificato alcuni accordi commerciali penso all'ultimo col Marocco assolutamente devastanti sul tema della tutela dei nostri prodotti di alto livello qualitativo e assolutamente funzionali invece probabilmente alle esportazioni di qualche prodotto dell'industria pesante tedesca.